che fai sto decorando la barra di pavarotti sbrigati perché ho trovato una canzone perfetta per il nostro duetto e qual è candles di e mondi che cambiamento stai affinando il tuo gusto beh vedi avevo bisogno di un pezzo un po più emotivo perché hai scelto proprio me per questo duetto carta arriva un momento in cui diciamo a noi stessi o eccolo la cerco uno così da una vita vederti cantare blackbird l'altro giorno mi ha davvero aperto gli occhi ho capito una cosa tu tu mi emozioni carta e questo duetto sarebbe una scusa per passare più tempo con te dovremmo dovremmo provare non era già una prova